buon pomeriggio amici di panorama italy rieccoci in diretta amici questo pomeriggio ragazzi dalla bellissima aspra frazione marinara di bagheria spettacolo ragazzi andiamo da quella parte ragazze andiamo a vedere la bellissima spiaggetta e poi torniamo da quella parte in direzione cala francese un saluto ringraziamento a tutti gli amici che si stanno collegando ovviamente ragazzi vi invito a condividere come sempre ea supportarci questo pomeriggio sempre in prima linea con il mimo buongiorno buongiorno ciao giusi amica mia un saluto un abbraccio da aspra ragazzi andiamo da quella parte ciao anthony cini entro in più di oggi dove veramente ragazzi guarda che solo che c'è incredibile giornata fantastica ma 16 gradi mimo ma secondo me sembrano anche a 20 perché si sta davvero benissimo andiamo da quella parte ragazzi andiamo a vedere la zona del mare adesso vediamo meglio sentiamo anche gattano bargione teresa battaglia andiamo da quella parte ragazzi ciao vale buon pomeriggio saremo anch'entoni ciascino subito ma mos poi facciamo un passaggio anche nella zona di cala francese saremo anche giuseppe sanzone da bagheria ciò giuseppe dopo saremo a bagheria ma non saremo gli amici di bagheria ragazzi grazie grazie di cuore un saluto a tutti voi saremo anche tonino musso da salsuolo alfredo lentini ciao alfredo mimo bellissimo posto aspra giornata ragazzi sembra estiva saremo intanto anche a conci a toni babboino ciao toni andiamo da quella parte ragazzi a vedere la spiaggetta ragazzi qui più avanti ogni mattina trovate o quasi sempre comunque trovate le bancarelle che vendono il pesce fresco vamo sentoni share share come mai due dirette ragazzi perché così evitiamo di farla troppo lunga per tutti gli amici che magari vedono l'inizio della diretta da palermo non si stancano guardate che spettacolo ragazzi già da qui come è possibile vedere tutto il golfo di palermo seguiamo anche giuseppe larrocca ciao giuseppe teresa ottaviano c'è intanto un piccolo pino ragazzi guarda che spettacolo tutto bello ordinato mi muvero davvero amici non mancano mai nostri amici non mancano mai saluti manchiali banali ad antonella fina guarda che bello ragazzi lì di fronte tutto il golfo di palermo adesso da lì lo vedremo meglio ma ci avviciniamo di più al mare facciamo questa bella passeggiata anche le barche lì ragazzi nel porti nel piccolo porticciolo l'unica frazione di bagheria ragazzi aspra borgata marinara appunto di bagheria posto incredibile ragazzi avete costumi da bagno dice già ci volevano mimmo ragazzi c'è veramente caldo ragazzi giuseppe gerasi e teresa battaglia andiamo da quella parte amici andiamo a vedere il mare intanto concetta già condiviso mimmo vamos saldiamo a tonino musso ciao tonino vedete ragazzi che le caratteristiche case tutte basse tipiche dei borghi marinari adesso più sotto vedremo anche qualcos'altro ovviamente aspra ragazzi famosissima per per le acciughe ragazzi le acciughe di aspra sono famose in tutto il mondo ovviamente sono un prodotto tipico del territorio che appunto è la maggiore risorsa diciamo di questa zona a parte ovviamente il turismo in estate salutiamo a tonino pace assunta somella e maria clemente mamma mia mimo ma che mare c'è scendiamo andiamo a vedere il mare raga ragazzi teoricamente dovevo mandare solamente a bagheria oggi pomeriggio però con questa bella giornata abbiamo pensato mimo di fare un passaggio un passaggio ad aspra siamo vicinissimi salutiamo intanto a pedrito ciao pedrito un abbraccio al nostro pedrito salutiamo anche lucia pitarresi ciao lucia qui mimo guarda forse hanno fatto una bella bella piazzuolo guarda non risistemato non so se è privato non penso adesso caso non ci passiamo dai stanno sistemando tutto no non era così salutiamo anche ugo ursa alex rosa nero ciao alex guardate che spettacolo ragazzi avviciniamoci al mare stanno facendo qua forse un porticciolo bellissimo comunque dai mi piace provvifili a teresa battaglia adesso scendiamo in riva al mare ragazzi tenetevi forte perché qui il mare è bellissimo qui ne state ragazzi vedete lì c'è il piccolo porticciolo diciamo dove ci mettono tre barchi pescatori qua sotto c'è il mare guardate che mare che c'è salutiamo giusi albero ciao giusi cipri francesca e isabella ciao isabella come fai a sopportare a entoni la domanda se lo chiedono tutti entoni scinni facciamo scinnere a entoni isabella salutiamo anche assunta somella e lydia bonetti che vista c'è mimmo spettacolo salutiamo anche tiziana sì 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 bellissimo adesso scendiamo ci avviciniamo salutiamo anche anna ferrante ciao anna ragazzi qui tutto mimmo bellissimo salutiamo anche enzo miceli e giuseppe titone ciao amici siamo già cento raga jeffri intanto dice wow grazie adesso andiamo a vedere il mare più da vicino comunque guardate che come qui sotto nebbia a palma dice antoni antonino salutiamo anche gino pace ciao gino che dici mimmo sì cristallina ragazzi adesso andiamo a vedere più da vicino lì c'è anche la bellissima piazza lì di fronte adesso ci andiamo la valigia è pronta parentoni vamo vamo sentono i scinni saluti ma giovanna viviano ciao giovanna mimo boom boom qui non ne vendono boom boom qua niente boom boom raga la vendono solo in marocco e a palermo qua siamo in provincia quindi già ragazzi tra l'altro aspra non dista moltissimo da palermo perché comunque a quanto siamo 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 a 7 chilometri raga diciamo che l'unico problema un po il traffico che insomma in alcune giornate 7 chilometri sì 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 salutiamo pure a tonino pace io ormai ho 40 anni che abita bagheria tra bagheria e la renella da me ciao tonino antoni vamo scinni valigia pronta salutiamo anche anna ferrante rossella calderone ragazzi adesso scendiamo scendiamo nuovamente antoni guarda guarda qua che mare vediamo pure se l'acqua è fredda mimo oggi pomeriggio tanto si muore di caldo io sto morendo di caldo raga anche l'idea dice anche a brescia c'è la nebbia fitta noi abbiamo la nebbia la nebbia è solo chiedere i sigghioli dice non potevate scegliere di meglio grazie assunta salutiamo pure a tonino pace mare limpido antoni ma direi cristallino guardate si fermano anche i bimbi a guardare il mare saliamo anche antonella magnasco c'è antonella da questa parte tutto il porticcio adesso magari ci beviamo qualcosa non lo so magari non una bum bum perché probabilmente non ce l'hanno magari qualcosa altro in piazza c'è la bella la gelateria lorenzini ciao ugo saliamo anche a tonino pace mi farei un bagno dicendo i ragazzi la giornata è ideale antoni che fai da che fai da vamo se jeffrey boom boom vediamo anche anna ferrante ciao anna avviciniamoci vamo se vamo snimo vamo sala playa mamma mia raga vediamo anche celestino calcagno e roberta scafaro mi siederei mi siedo qui adesso io resto qui posto meraviglioso grazie sabella giusti sicuramente già stava facendo gli screen ragazzi posto incredibili guardate che male ragazzi guardate guardate magari da sopra non si capiva bene mimo ma qua c'è qualcosa di eccezionale saliamo amico mattia se ciò mati spero il tampone tutto bene guardate che male raga vamo santoni fai home office potete anche teresa battaglia ciao teresa mamma mia raga potete anche a salvatore nicolosi ciao salvo e piero salvo casucci salutiamo tutti gli amici di aspre bagheria fai il bagno mimo fai il bagno anche tiziana spie ragazzi vi dico veramente non c'è c'è veramente il tempo anche da fare il da fare il bagno qua io penso che a mondello oggi pomeriggio qualcuno il bagno già lo sta facendo salutiamo anche rosario in pieri e ralex organizzatevi le vacanze estive ragazzi esatto venite in sicilia vi raccomando vincenzo di sciacqua pulitista ragazzi spettacolare siamo in un piccolo porticciolo qua jeffrey quindi pensa in mar aperto com'è salutiamo intanto anche concetta e carmela gaiardi ragazzi siamo anche a due passi di mimo dalla bellissima santelia che abbiamo visitato la scorsa settimana salutiamo anche anna maria grillo c'è anna maria antonio antonio busalacchi no giussi non fa niente guarda soltanto vamos giussi salutiamo anche in santi occo c'è un enza altro negativo vamos mati mi fa piacere dai dai ragazzi sono contento sono contento intanto ringraziamo a jeffrey che in via 100 stelle mimo grazie a jeffrey prendiamo che ci prendiamo con ogni 100 con le 100 stelle jeffrey ci prendiamo un chinotto raga salutiamo anche ugo urso e lucia scu ragazzi siamo ad aspra paradiso terrestre ragazzi la nostra sicilia piccola borgata marinara ragazzi di bagheria provincia di palermo siamo a circa 7 km dalla nostra città posto incredibile come dicevo ragazzi in molti supermercati ma forse forse non proprio in dei supermercati proprio nei posti dove vendono prodotti tipici ragazzi trovate un sacco di volte le acciughe di di aspra che sono famosissima in tutto il mondo c'è anche il museo dell'acciuga mimo lo sapevi di michelangelo balistreri acqua fredda non lo so mati adesso vediamo com'è l'acqua vediamo vediamo com'è l'acqua raga salutiamo intanto il mio amico enrico coico ciao enrico un abbraccio ragazzi non è tanto fredda non è tanto fredda hai preso il caffè o ti prendi il caffè mimo dice ma perché andare fuori ragazzi scegliete sicilia come dice anthony ragazzi bellissimo bellissimo ciao anna salutiamo anna ferrante ciao anna antonietta angelo cioè ragazzi sono le marche ci sono cinque gradi ragazzi qui siamo sui quanto abbiamo detto mimo 16 16 gradi ragazzi lanciamo una pietra il paradiso si chiama sicilia sicili mamma e ragazzi troppo rilassante saremo anche tazzini alda da catania salvatore grimaldi ciò salvo dice giuseppe giaci un bagno lo farei si ragazzi in effetti si potrebbe fare e per ragazzi qui diciamo vedete non c'è nessuno quindi uno magari potrei anche la maschina respirare un po di sana aria di mare che fa sempre bene al cuore all'anima salutiamo a giucia scuola giacomo nel l'arca azzurro e non so giuvi giacomo siamo un po distanti dall'arca azzurro perché si trova esattamente ragazzi da quella parte quindi adesso ci avviciniamo comunque a cala francese adesso prima però per di andare in direzione casa cala francese andiamo da quella parte ragazzi ne a vedere più un più la piazzetta di aspra anche dove vendono il pesce al mattino salutiamo a rigio vita ugo urso fanno un bel pane di rimacinato rimacinato a legna intanto guardate mimmo dice mi ricorda quando ero bambino si porta il vetrino a casa mimmo saliamo silvio tocco tiziana spina e tonino uso dice a sassuolo ci sono quattro gradi grazie qui diciamo fortemente meglio ciao stefania dice mi fa piacere rivedere aspra molto caratteristica ragazzi vedete è tipica delle delle borgate marinare tutte le casette basse mimmo quest'estate ragazzi l'abbiamo vista anche dal gommone perché abbiamo fatto un giro in gommone con il nostro amico totò cosenza che ringrazia ancora chi ha proprio i bnb qui ad aspra ragazzi quindi se volete alloggiare ad aspra rivolgetevi al mio amico totò salutiamo anche a francesco geraci viviamo nel paradiso e non lo sappiamo è vero ragazzi salutiamo anche a maria eliana galazzo e ringraziamo ancora jeffrey per le 100 stelle grazie jeffrey che ti porti vediamo ne ha presi già tre tre vetrini vamos saliamo anche a marino di giorgi e poi questo qua la vetro e l'acqua li fa le vigate a tutti diventano tipo pietre bellissime salutiamo anche tiziana spina e la nostra amica meritoia ciao meri un abbraccio da ivrea com'è il tempo a ivrea raga quant'abbiamo detto 16 mimmo qua sì 16 a meno fino a poco avanti matias dicevano sempre a cavi di lavagna mati ti aspettiamo ti aspettiamo in sicilia ti aspettiamo in sicilia scenni pure tu mati scennete tutti salutiamo anche a giovanna viviano ciao giovanna e marino di giorgi risaliamo da qui mimmo andiamo da quella parte della piazzetta sul mare andiamo a vedere anche il golfo di palermo da là raga risaliamo diciamo che si poteva andare anche a giovfalu oggi no poteva andare a cefalu a cefalu raga però che dice giovfalu che è che lo dice gli amici di jeffrey lo chiamano giovfalu stiamo a stefania marinelli e del luci asco andiamo andiamo da quella parte aspra live raga grazie anna ragazzi ci avete detto che fanno il pane buono di rimacinata a legna ma non mi avete detto dove quindi non possiamo acquistarlo se non ci dite dove dove comprarlo poi intanto c'è colapisci le mani dice a 500 metri si trova la casa di sua mamma a vicino c'è anche un ristorante messicano c'era un ristorante messicano non lo so c'è colapisci pub drink food sushi ci ha mai invitato questa sera ad andarci lo sai qualche volta ci andiamo salutiamo anche giussi vicari questa mattina tre gatti adesso invece 11 ma è umido no ragazzi qui devo dire è giocata fantastica joffalo un altro dia si diciamo che potremmo andarci anche domani no si dove adesso ci andiamo salutiamo anche ediziana spina ad andrea in grassi a ciao andri un saluto a te a tutti gli amici di misilmeri come si chiama il paese ragazzi il paese si chiama aspra aspra si chiama bagheria ragazzi frazione di bagheria dov'è essere aperta una delle piazze qua vendono ovviamente pesce guarda qui ci sono tutte le postazioni dei pescatori l'unica cosa che non manca è il pesce il pesce ragazzi qui trovate il pesce fantastico qua c'è anche un antico chiosco ci prendiamo mimmo ci prendiamo qualcosa da bere ma sembra aperto dovrebbe essere prendiamo qualcosa da bere dice vai più avanti per i panifici intanto ringraziamo marianna carollo che invia 50 stelle grazie marianna allora ragazzi qui al mattino c'è il mercato del pesce pure e da qui ci sono le imbarcazioni questi sono i vari banconi dove vendono il pesce da qui c'è un bello affaccio sulla bella spiaggetta che abbiamo appena visto si giusti dopo più tardi siamo a bagheria ragazzi facciamo aspre e poi bagheria mimo credo sia aperto caffetteria, gelateria adesso ci prendiamo qualcosa marco chiedi ragazzi con piacere ragazzi ci vediamo quando volete siamo sempre in giro saliamo Andrea Ingrassia ciao Andrea, Anna Maria Grillo grazie, grazie a tutti questa è la bella spiaggetta che abbiamo appena visto quanto costa un caffè ragazzi? un caffè costa un euro saliamo a Tiziana dice boom boom saliamo a Antonella Ficarotta a Antonella guardate che male ragazzi tutti dicono boom boom questo qua non c'è la boom boom non c'è ragazzi qua non la vende la boom boom ci prendiamo qualcos'altro marco dice andiamo a pigliare un caffè ragazzi con piacere saliamo anche a Valentina Puleo ciao Vale ragazzi vi raccomando tutti gli amici di Aspre e Bagheria collegati condividete e dateci una mano hai il vocione dice io forse giusti dice che c'è la voce un po' alta oggi qui è fantastico il caffè dice Lory che facciamo da quel punto ricorda Cefalu è vero sembra la balconata di Cefalu grande Giacomo che ci ricorda sempre tanti bei piccoli scorci del nostro territorio andremo presto anche nel Trapanese Giacomo è un esperto di Trapanese perché ovviamente eh intanto Anthony invita sua moglie a scendere dice amore scendiamo giù sentiamo anche Elena Bruna e Maria Iraci spettacolo c'è pure la barca andiamola a vedere perché altrimenti la prendiamo dopo qualcosa da bere intanto procediamo con la passeggiata guarda che bella piazza qui Mimmo sembra passeggiata vero di Cefalu va a delle belle panchine che si guarda il mare là c'è anche un pesce a forma di c'è un pesce che appunto lo usano per raccogliere la plastica salutiamo a Celestino Calcagno ciao Celestino ringraziamo ancora Jeffrey per ah Cupa eh non lo so giù se può capitare ogni tanto salutiamo anche a Marianna Carollo che ha inviato 50 stelle Jeffrey grazie grazie Jeffrey grazie Jeffrey salutiamo intanto a Sorrentino Vincenzo eh da Ginevra quanto costa una casa qui Mimmo? è qua la casa no ma non costa molto non costa molto Mati non costa molto salutiamo anche a Brian Rosso perché non viene a Bageria? Brian più tardi siamo là raga più tardi siamo a Bageria stiamo facendo una passeggiata prima ad Aspra ragazzi perché c'è una giornata fantastica e quindi anziché andare subito a Bageria ragazzi stiamo facendo un passaggio prima ad Aspra salutiamo anche Anto Zarcone ciao Anto e Pino Morello grazie Alex grazie mille per questo tour mi trovo a Torino e Aspra mi manca ciao Lori grazie grazie Lori ti raccomando di condividere condividi la diretta così facciamo vedere un po' di di Aspra anche a tanti amici che magari non lo vedono da tanto per dire la nostra amica Lori appunto salutiamo anche a Silvia Garofalo ragazzi se avete dei gruppi ovviamente su Aspra e Bageria ancora meglio qua appunto vedete ci sono tutte le varie casette come dicevo prima basse appunto tipiche delle borgate marinare adesso ci spostiamo anche c'è una bella scritta costano poco le case lì e si ragazzi pochino vediamo anche Svetlana Paonovic da Belgrado Anto Zarcone qui intanto c'è una bella barca qua c'è il pesce guardate ragazzi dove raccolgono la plastica intanto entro in via cento stelle vamos sentono i grazie vediamo anche Valeria Mongi guardate che bella barca come si chiama questa barca ce l'ha il nome sicuramente vediamo anche Valeria Mongi e Salvatore Laporta bellissimo Bageria abitava a Villa Abate ero sempre là aspra comunità marinare aspra comunità marinare si chiama Giovanna Viviano ciao Giovanna bellissimo questo grazie Giovanna grazie di cuore ragazzi vi raccomando condividete il video condividete il video Ninfa dice vorrei una casa in affitto qua ragazzi c'è anche il mio amico Totocusenza che li affitta quindi potete contattare a lui oppure ci contattate noi sulla pagina e vi giriamo il suo numero saliamo anche a Marcello Petrus ciao Marcello Antonio Chiovarelli è un monumento ma non si capisce cosa sì questo sì 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 sono due che tengono sì non si capisce bene non c'è scritto il nome del monumento lo inquadriamo pure se c'è qualcuno ovviamente collegato che ci vuole ricordare che cos'è ovviamente leggiamo tutti i commenti come sempre saliamo anche Adriana Giustiniano ciao Adriano qua intanto ci sono un sacco di locali quella forse è la pizzeria che diceva il nostro amico Alex insomma ci sono un sacco di bei posti là c'è un'osteria qua si mangerà benissimo Mimmo ci sono un sacco di bei posti guarda che bella piazza ragazzi sul mare guarda che spettacolo che c'è da qua mamma mia magia pure grazie Giovanna per la condivisione è un po' cambiata comunque si si l'hanno sistemata ragazzi si l'hanno risistemata hanno fatto una piazza veramente bellissima lì ci sono delle belle panchine Mimmo facciamo vedere YouTube dai facciamo vedere YouTube ragazzi questo video che vedete in questo momento ragazzi poi verrà caricato su YouTube in 4K grazie al nostro amico Anthony adesso vi facciamo vedere il canale YouTube mettiamoci all'ombra un secondo raga all'ombra si vede male quindi ci mettiamo un secondo qua ragazzi adesso continuiamo con la diretta andiamo là nella passeggiata Mimmo e poi ci spostiamo in direzione di Cala Francese 865 su YouTube ragazzi dateci una mano con le iscrizioni grazie Mary grazie ragazzi se non siete iscritti su YouTube vi raccomando iscrivetevi iscrivete Panorama Inter andate su canali e cliccate qua ragazzi dove siete iscritti a voi spuntere iscrivetevi ci cliccate e ci date una grossa mano Giovanna se non sei iscritto iscriviti su YouTube Mary anche tu ovviamente Sottima anche Ninfa Milazzo no Anthony no non è FES vamos 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 grande vale ragazzi iscrivetevi iscrivetevi su YouTube Ninfa scrivici nei commenti che ti faccio sapere qualcosa scrivici su sul profilo sulla pagina Facebook Sottima anche Giovanna Scalia ciao Giovanna ragazzi Panorama Italy canali iscrivetevi forza 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 vamos Mimmo meno 135 raggiungiamo l'obiettivo dei 1000 Sottima anche a Francesca Prestigiacomo ciao Francesca salutiamo anche a Rosi a Margherita e Rusa Francesca Prestigiacomo grande Mary grazie di cuore grazie di cuore ragazzi ringrazio a tutti gli amici che stanno si stanno iscrivendo ovviamente ragazzi se siete della provincia di Palermo se siete di di Bagheria o di Aspra ancora meglio condividete ragazzi perché magari diamo una gioia a qualcuno a casa che non vede casa da un po' dice Marco qualche volta avvicinare la spiaggia del Cafaro va bene qui siamo vicini anche salutiamo anche a Diana Evola Stabile grazie no Diana scusami non ti avevo letto come ho detto capita che mi può saltare qualche commento non lo faccio apposta salutiamo sempre tutti nella nostra pagina come ben sapete là intanto Mimmo che stanno facendo una rete adesso ci passiamo chiedi se possiamo riprendere vedi se ti guarda che bella scritta è Love Aspra andiamola a inquadrare Mimmo no non è festa Anthony forse di sera la accendono con le lucine bella qua forse ti vuoi fare una foto Mimmo salutiamo a Giuseppina a Domenico facciamo uno screen in diretta dai mettiti là in diretta con la diretta vai vai ragazzi Mimmo in posa sponsor Adidas aspetta mettiamo così così riprendiamo tutta sponsor Adidas ragazzi la puoi abbassare la mascherina se vuoi con la mascherina ok vai grande Mimmo salutiamo anche Lidia Bonetti c'ho Lidia guardate che spettacolo da qui ho fatto cose nuove bellissima molto molto carina l'hanno fatta veramente carina è qui sotto fare cosa sapere che c'è qui sotto grazie Ameri per l'iscrizione che dicevi si nasconde qua in mezzo cosa si è pieno di granchi dice Brian Rossi è bellissimo di sera salutiamo anche Sergio De Carlo mamma Mimmo c'è da rimanere qua no no è bello è bello bello e questa è la temperatura di Ale per camminare si 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 salutiamo anche Diana Evola Stabia dice wow beautiful day in Sicily thank you Diana salutiamo anche amico Fabio Resci e Marco Falcazzurro c'è Anthony c'è Anthony Shinn Anthony già è stata bella che ha preparato pure la valigia ragazzi siamo pronti salutiamo intanto la mia amica Amelia Brito ciao Amelia un saluto dice la metterei come copertina della pagina questa foto si fai una bella foto dai salutiamo intanto mio compare Fabio da Malta ciao Umbare salutiamo tutti gli amici della provincia di Catania salutiamo anche Annalisa Giandalia ciao Annalisa adesso ragazzi andiamo da quella parte abbiamo c'è uno che sta facendo una rete di pescatore andiamo no I love Aspra screen adesso ci spostiamo anche in direzione di Cala Francese io vado a correre ad Aspra brava brava Giussi bei posti Mimmo bei posti ciao Diana sto mettendo mi piace nei video di Youtube grazie Ameri un abbraccio dai ragazzi dateci una mano su Youtube dobbiamo arrivare a 1000 passiamo da lì ragazzi stanno facendo una bella rete andiamola a vedere il vento non lo inquadriamo perché magari non vogliono è una rete di pescatore sono anche a Pietro Casillo c'è Pietro e Laura Monreale spettacolare buongiorno possiamo inquadrare? abbiamo un po' di amici collegati grazie ragazzi guarda che spettacolo fatta a mano ragazzi spettacolare spettacolo saldiamo anche Gaetana De Luca Antonino ciao Anthony un saluto da Aspra ragazzi guardate con che maestria qua rete di pescatori ciao Marco adesso vediamo se riusciamo a passare raga saldiamo anche Luisa Mennillo ciao Luisa saldiamo anche a me Tiziana Zito da Leon Forte andiamo da quella parte andiamo da quella parte una buona serata buon lavoro buona giornata dice quando vai in direzione di Magaggiari ragazzi a Magaggiari quando ci siamo stati Mimmo 10 giorni fa ragazzi a Magaggiari torneremo ovviamente anche nella bellissima Terrasini approfitto per salutare tutti i miei amici di Terrasini ormai Giussi che ormai è una terrasinese da adozione e andiamo ragazzi in direzione di Cala Francese da quella parte vamos so che anche a Franco Pignatelli c'è Franco Angelo Versaggio sempre bellissima quanto mi manca passeggiare poi c'è una giornata meravigliosa tutti i pescatori grande Stefania ragazzi vi raccomando se siete di Aspro Bagheia dateci una mano con le condivisioni e facciamo vedere casa a tanti amici io ho amici ad Aspro Pescatori a volte si blocca ragazzi io so purtroppo non dipende da noi vi racconto ragazzi non vi scollegate anzi dateci una mano anche noi siamo famosi per le resi grande Ridia ciao Sele salutiamo anche Rita Spalletta andiamo a vedere ragazzi la bellissima Cala Francese davvero bella vero Mimmo ah Diana Evola Sabile dice io sono di Cinisi ma vivo a Chicago mi manca la mia Sicilia wow ci siamo stati ci siamo stati a Cinisi a Magaggiari no a Chicago non ci sono stato no a Chicago no salutiamo gli amici di Chicago anche sempre bello andare a Chicago ci vuoi andare a Chicago allora vi veniamo a trovare Diana ti portiamo qualcosa di siciliano salutiamo in Chiarina Bossolo Ciarina e Giovanni Sciascia adesso stiamo andando ragazzi in direzione di Cala Francese credo dovrebbe essere Cala Francese la sì comunque Chicago è bello dovrebbe prendere qualcosa da bello o no? che devi fare? scusate tu vuoi questa da bello sì prendiamo un chinotto raga prendiamo un chinotto tieni vediamo se quel chinotto Jeffrey oggi vuoi cosa cazzata poi tu voglio dire un chinotto che è poco cazzata che dici? chinotto vuoi tu tu che vuoi? fai tu dai prendi qualche cosa tu dai ci beviamo qualcosa raga all'antico chiosco salutiamo anche a Tony Baione ciao Tony no questa no oh se ce l'hanno ah una cassosa ce l'hanno una azzusa raga prendiamo una azzusa a seven up raga a seven up bella twice salutiamo anche a Davide Schiera a Michele Apicella grazie qui come dicevo al mattino ci sono tutti i banchi dei pescatori dove vendono dei pesci spettacolari adesso mi inventate andate a comprare qualcosa adesso vediamo con che cosa torno vamos con le stelline come dice Anthony ragazzi per inviare un supporto alla pagina ragazzi basta cliccate nel tasto a forma di stelle e ci date una mano salutiamo intanto al mio amico Tom McLean da Los Angeles ciao Tom oggi mare Tom siamo ad Aspra provincia di Palermo Borgata Marinara di Bagheria salutiamo a Giovanni Sciascia Maria Tiziana Zito peccato che si blocca ragazzi purtroppo non dipende da noi in alcuni punti è un po' così quando viene la zona di Leonforte bellissimi borghi uno dietro l'altro quella zona merito ci sono passato ottobre giacomo vedremo di andarci intanto saluto al mio amico Enrico Schillaci ciao Enrico buon pomeriggio ieri siamo visti anche con Enrico ragazzi spettacolo salutiamo anche a Francesco Cuvello perché ridi Dani salutiamo anche a Giusepio ciao Giusepio Anna Puleo ciao Anna ciao Anna ciao adatta da Bagheria non so se puoi entrare ai francesi c'è il cancello puoi provare no Anna ho visto che sembrava aperto poco fa quando ci siamo passati ah Davide Schietto saluto anche a Davide Schiera il marito di Dani vamos dove si trova l'Asp vicino dove ragazzi siamo a due passi da Palermo ragazzi 5-7 km intanto salutiamo alla mia amica Anna Puleo che è il gruppo dei bagheresi quindi lo ringrazio intanto arriva Mimmo cosa porta Mimmo ragazzi vediamo cosa è preso ah un chinotto raga allora raga un chinotto vamos un brindisi col chinotto brindisi anche con voi a casa saluto tieni tu però saluto Lulù Caterina ciao Lulù che è successo? Mimmo si sta facendo il bagno col chinotto raga un buon chinotto raga grazie Lidia salutiamo anche Stefania Massa grazie a sentiamo in direzione dei francesi ringraziamo Davide Schiera che invia 99 stelle grazie Davide salutiamo anche Odilia ti saluto a Giussi Mimmo un saluto a Giussi salutiamo anche a Meritoia alla salute raga qui ci sono tutti i banchi dei pescatori ragazzi Aspra famosissima come abbiamo detto per le acciughe sia sotto sale che sotto olio raga spettacolari quelle di Aspra sono tra le migliori del mondo adesso rivediamo ragazzi sì 99 stelle al nostro amico Davide ringraziamo anche Daniele ovviamente per le stelle grazie Anthony andiamo da quella parte grazie andiamo in direzione con la francese un bello chinotto ti saluta Selena ciao Selena buttiamo qua c'è un cestino ci ho detto chinotto si dice anche in Sicinale che sarebbe un bello pacchiotto rosso vai un bello chinotto un bello chinotto salutiamo anche a Lorenzeri lo vidillo 10 colori fantastici grazie Jeffrey allora ringraziamo ragazzi per le stelle ringraziamo aspettiamo che spuntano perché allora ringraziamo il nostro Jeffrey Marianna Carollo il nostro Davide Schiera il nostro Anthony 350 stelle raga le acciughe di Aspra sono famose in tutto il mondo vamos comunque devo fare anche una cosa quando ci fanno le stelle ogni persona che tu dici faccio la ola allora ragazzi ogni stella inviata Mimmo farà una ola come lo stadio come lo stadio quando chiami il giocatore non è questa cosa salutiamo Jenny Snickast e Giovanni Scafidi vamos continuiamo con la passeggiata ragazzi lì di fronte è bellissimo Monte Pellegrino Mimmo ragazzi da qui è possibile vedete anche tutto Monte Pellegrino si vede anche a casa mia raga guardate che spettacolo ragazzi si vede la casa di tutti da qua raga vamos ragazzi su con le condivisioni ragazzi da qui ragazzi Monte Pellegrino vabbè Monte Pellegrino è perché è più punto di riferimento praticamente guardate tutta Palermo ragazzi salutiamo anche Ina Shortino ciao Ina vediamo di chi saranno le prime stelle della prima ola di Mimmo per le stelle state anche a Pietro Giacquinto ciao Pietro ragazzi andiamo in direzione di Cala Francese vediamo se si è aperto oppure nel frattempo è chiuso non lo sappiamo adesso vediamo lo scopriamo passeggiando ragazzi poi ci andiamo a mangiare invece lo sfincione bagherese proprio quello non deve mancare oggi oggi non deve mancare ragazzi lo sfincione bagherese siamo partiti da casa per questo poi stata facendo ovviamente abbiamo pensato di fare una tappa prima qui è stata una bella tappa una bella tappa ragazzi perché comunque ci tenevamo ad andare in riva al mare in una giocata pazzesca come questa si vede tutto il fuori italico sì sì Alex anche la zona della cala si vede siamo un po' distanti ragazzi ma ovviamente si vede tutto andiamo da quella parte buono ma non l'ho mai mangiato Laura è buonissimo buonissimo ragazzi vi consiglio di assaggiarlo sono anche a Riccardo Russolino c'è Riccardo saliamo Ina dice intanto qui c'è oggi bel tempo qui in Germania brutto intanto ringraziamo la nostra amica Annuccio che fa 50 stelle grazie Annuccio prima ola vamos non so se si sente si sente si sente fatemi sapere se si sente la ola grande vamos alla playa dice Sele vamos vamos ragazzi guardate che mare adesso ragazzi in direzione di Calafrancia anche se la connessione non sarà delle migliori in quel punto però c'è un mare ancora più bello ringraziamo Annuccio per le 50 stelle e a Palermo che si vede ragazzi si vede benissimo da qui tutto il golfo guardate tutto il golfo di Palermo praticamente eh Mary no però andiamo a mangiare lo sfincione bianco ragazzi lo sfincione bagherese dice Giacomo vamos a manciarle più che a ballare intanto salutiamo guarda Rosaria Giuliano che ci sta seguendo io sono di Bagheria grazie fa molto piacere un saluto dal Belgio ragazzi Rosaria dacci una mano con le condivisioni dai ragazzi dateci una mano tutti gli amici bagheresi e di Astra nel mondo facciamo condividiamo questo video così facciamo anche vedere casa a tantissimi amici dopo ragazzi saremo a Bagheria se ne ha mangiato lo sfincione Dania dice buono lo sfincione di Bagheria mamma mia è pazzesco tu non l'hai assaggiato? no Mimmo non l'ha mangiato niente resterà scioccato ti sei perso più di qualcosa ovviamente poi ci torneremo più spesso perché appena l'assaggi poi quando andiamo a fare chi è per lo sfincione? è lo sfincione bagherese ragazzi è una una similtizza diciamo con ricotta tuma cipolla acciughe tipo quello che faccio io però c'è in più la tuma stavolta vai da Valenti per lo sfincione Anna si è vero dobbiamo andare da Valenti perché al solito si è andata all'antica focacceria saliamo anche a Nicoletta Favazza c'è Nicoletta allora ragazzi andiamo da quella parte in direzione dei francesi vediamo come la situazione si è aperto e poi andiamo a Bagheria vamos vamos anche a Medi non l'ha assaggiato che pure lei è di Palermo ragazzi sono cose che dovete assaggiare se state in Sicilia se vivete qui quindi andiamo a mangiare lo sfincione e Bagheria in teoria lo ha assaggiato sia e no 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 non è diverso è diverso quello che facciamo noi è un po' diverso ovviamente quello è sfincione bianco invece quello è sfincione Bagherese è un'altra cosa lo andiamo ad assaggiare da Valenti che è uno dei forni più antichi di Bagheria lo fanno ed è famoso in tutto il mondo quello di Valenti anche quello di Antica Focacceria è buono però andremo da Valenti questa volta visto che l'altra volta siamo andati da da Santa da Antica Focacceria si si ragazzi lo facciamo assaggiare a tutti sono anche Paola Soares ciao Paola dal Brasile 130 Mimmo andiamo andiamo vamos vamos a mangiare intanto Tom McLean in via 50 stelle grazie Tom sempre prezioso guardate da questa parte da qua c'è anche si si vede anche Montecuccio Mariana da qui ragazzi è possibile vedere cioè non si vede però in questo momento perché è più avanti c'è anche la zona dell'Arcazzurro diciamo quello dei Baci Perugina ragazzi quest'estate ci siamo stati in gommone abbiamo fatto sì lo so purtroppo saluto a Marina Longi noi io sono di Partinico papà di Palermo abitava alla Zisa ragazzi a Partinico non ci siamo stati in diretta ma siamo stati a Borgoparrini grazie Tom grazie del supporto ti aspettiamo a Palermo Tom quando arrivi facci sapere così facciamo un bel tour sì se le le stelle ragazzi ovi li inviate quelle gratuite che di tanto in tanto spuntano oppure potete fare li dovete acquistare sì con una card Stefano dice a Bagheria ci abitava la mia bisdonna che ha vissuto 101 anni wow un bel traguardo raga 101 anni un secolo un secolo praticamente intanto ragazzi siamo quasi arrivati ai francesi vediamo se adesso possiamo entrare Mimo ti scende da qua ragazzi il bacio abbiamo tra l'altro il video Mimo su tiktok dell'arca azzurro quindi ragazzi c'è sto dicendo l'arca azzurro dei baci perugina ragazzi non so se avete visto la pubblicità abbiamo anche il video caricato su facebook oggi neanche no Giacomo siamo un po' distanti per l'arco azzurro ragazzi perché la parte più bella si vede dal mare diciamo tu ci sei stato dalla parte della terra però non è la stessa cosa ovviamente vediamo se riusciamo a prendere il video su youtube Mimo che lo facciamo vedere mi sa che l'ho caricato già pure su youtube allora ragazzi vi faccio rivedere youtube perché su youtube ragazzi c'è proprio il video che abbiamo fatto facciamo vedere allora intanto siamo 869 quindi più 5 su youtube allora ragazzi vediamo se c'è non ricordo se l'ho caricato vediamo un secondo no se l'ho caricato su youtube no ragazzi lo carichiamo stasera il video dell'arca azzurro di aspra allora ragazzi per vedere il video dell'arca azzurro di aspra vi dovete iscrivervi a questa pagina qui ragazzi la nostra pagina youtube allora panorama itali andate su canali iscrizione Giacomo l'ha visto si mi ricordo stavo dicendo ragazzi quindi per rivedere il video dell'arca azzurro lo caricheremo tra poco su questa pagina youtube quindi dovete andare a panorama itali canali e vi iscrivete ragazzi vi raccomando ci teniamo in tanti che lo vedete è un posto magico siamo 869 per ora scendiamo scendiamo vediamo com'è la connessione qui ragazzi può darsi che salta mimmo non ha aperto dai la nostra mia canna ho detto che forse era chiusa però qua è aperto no meri ancora dobbiamo caricare ragazzi l'ho caricato solamente su tiktok ancora su tiktok ragazzi la pagina è panorama itali 1 potete vedere il video salutiamo elisa di ricobono si ragazzi l'arca azzurro è alle spalle di questa di questa montagnetta che vedete qui c'è l'arca azzurro salutiamo anche Angela ciao Angela salutiamo anche Paul Tognocchi ciao Paul ringraziamo intanto tutti gli amici che hanno inviato delle stelle allora ragazzi scendiamo salutiamo Jeffrey Allen Marianna Carollo Anthony Fazio il nostro Davide Schiera annuncia da Yabat e Tom McLean grazie del supporto grande Giusy grande anche qui sotto un paradiso ne è stata pieno di turisti arrivano da ogni dove ragazzi ciao Ina buon lavoro ragazzi vi raccomando ragazzi con le condivisioni dateci una mano a promuovere il nostro territorio anche qui mare da favola Mimmo salutiamo anche Debora Pietraiello e Flowers Danny un saluto un abbraccio a tutti voi ragazzi ha messo il link intanto Anthony ragazzi vi incollo il link dell'arco azzurro dai lo fisso in alto ragazzi questo link che abbiamo appena messo fissato in alto è il video dell'arco azzurro di Aspra salutiamo in chiamare di Sant'Angelo sarà fresca devo dire che poco fa l'ho anche toccata e non era molto fresca grazie Mariana grazie del supporto ragazzi io vi ringrazio tutti quanti adesso che facciamo Mimmo chiudiamo da qui chiudiamo da qui ragazzi dice compratevi le cannella pesca e prendete tanti sale dice il nostro amico Alex sarebbe anche un'idea ragazzi che diciamo chiudiamo Mimmo allora ragazzi niente chiudiamo da qui andiamo a Bagheria ragazzi andremo al abbiamo detto da Valenti panificio antico forno Valenti andiamo a mangiare un ottimo sfincione bagherese si si chiudiamo la diretta la facciamo in due volte per non annoiare troppo gli amici che lo rivedranno dopo salutiamo Marci Muschia Anna Maria Grillo ragazzi un saluto Mimmo ragazzi un saluto a tutti a tra poco a tra pochissimo ragazzi ci vediamo salutiamo intanto facciamo un po' di saluti prima di chiudere salutiamo Meritoia il nostro Giacomo Fabio Lo Cicero Fiore Angelo ovviamente la nostra Giussi il nostro Anthony Giovanni rivediamo YouTube intanto così potete vedere anche il link vamos Mimmo poi ci spostiamo vediamo a quanto siamo arrivati ragazzi siamo 869 forza manca solo un iscritto per arrivare a 870 aspettiamo un iscritto raga prima di chiudere Mimmo andiamo verso la macchina intanto così ci avviciniamo a Bagheria poi stasera torneremo in diretta da Palermo perché ci dobbiamo bella la Bum Bum stasera salutiamo a Diana Evola Stabile ciao grazie salutiamo gli amici di Chicago Mimmo li andiamo a trovare ciao prego salutiamo anche Giussi Pio Giussi De Gregorio a dopo ciao Anthony fratello un abbraccio VAMOS 869 su Youtube Mimmo dobbiamo chiudere 870 poi ci spostiamo a Bagheria salutiamo anche Alessia Scebba Isabella grazie Isabella abbiamo un bel sole in faccia fate iscrivere a tutti amici e parenti dateci una mano forza salutiamo anche Livia c'è Livia Panorama Italy ragazzi Youtube che giornata ragazzi incredibile ci tenevo a passare ad Aspa perché comunque non ci venivamo da un po' e poi comunque ragazzi vale sempre la pena una bella passeggiata in riva al mare ci andiamo col brutto tempo pensate con una giornata come questa potevamo non passare ragazzi tra un quarto d'ora 20 minuti siamo a Bagheria il tempo di risistemarci aspettiamo l'ultimo iscritto prima di chiudere però da quella parte guarda ancora il golfo di Palermo grazie a Mary va bene si iscrive intanto Mary grazie a Mary salutiamo anche a Valeria ragazzi mi scuso se non ho salutato qualcuno ovviamente lungo la diretta può capitare salutiamo Pietra ciao Pietra condividi chiudiamo ragazzi a tra pochissimo un bacio grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a voi grazie a tutti i nostri spettatori